La sincronizzazione, consente di allineare la base dati tra sito e gestionale, valorizzando ciò che si è deciso di utilizzare sul sito. Vengono prelevati pagamenti abituali, listini, valute, condizioni commerciali, categorie merceologiche, ordini, clienti, articoli. La sincronizzazione può essere schedulata, stabilendo quindi giorni ed orari in cui debba effettuarsi, ma può anche essere lanciata manualmente. Si può immettere uno uno o più indirizzi e-mail, a cui poter notificare l'esito della sincronizzazione. All'interno della sezione Aggiornamento descrizioni, è indicato l'elenco delle tabelle MEXAL coinvolte. Le descrizioni del gestionale possono essere o meno aggiornate, a seguito di una sincronizzazione per variati. Se non seleziono la tabella, posso mantenere la personalizzazione che ho effettuato in PassWeb. Per ulteriori dettagli in merito alle singole tabelle, si rimanda al manuale utente di PassWeb. La sezione Sincronizzazione, consente di visualizzare l'esito dell'ultima sincronizzazione effettuata. Permette inoltre di lanciare manualmente la sincronizzazione parziale, e quella per variati. A questo proposito, va detto che le sincronizzazioni sono di tre tipi. Per clienti e particolarità che si è deciso di gestire sul sito, e che sul gestionale risultano variati dall'ultima sincronizzazione effettuata, è terminata correttamente. Con variato, si intende un'anagrafica di MEXAL, o una tabella, che è stata confermata col tasto F10. La sincronizzazione può anche essere lanciata da gestionale, in questo è possibile scegliere tra sincronizzazione totale o parziale. Una volta entrati nella sezione Sincronizza PassWeb, vengono visualizzati tutti gli articoli esportati e gestiti all'interno del sito. Dal pulsante Imposta dati e-commerce, posso accedere direttamente alle videate e-commerce, utili per la gestione dell'articolo sul sito. Da questi parametri posso modificare in blocco gli elementi presenti in elenco. Attraverso il filtro avanzato, posso impostare quali articoli visualizzare in elenco, per visualizzare un sotto insieme degli articoli esportati sul sito. Come ad esempio, visualizzare solamente gli articoli in offerta sul sito. Da qui, premendo Invio, posso entrare direttamente nell'anagrafica di ogni articolo, senza uscire da questo menu. Infine il pulsante Sincronizza, consente di allineare la base dati del sito, con le informazioni del gestionale. Nel momento in cui dovessero risultare variati, rispetto all'ultima sincronizzazione, articoli, clienti o particolarità, cliccando su questo pulsante potrà essere effettuata una sincronizzazione dei soli elementi variati. Lancio ora la sincronizzazione dei solo dati variati. Nel momento in cui non dovessero esserci elementi variati rispetto all'ultima sincronizzazione, il pulsante Sincronizza permette, se necessario, di effettuare una sincronizzazione totale. La sincronizzazione totale, allinea tutte le tabelle accessorie, come listini, categorie merceologiche ecc., e tutti i clienti, gli articoli, le particolarità che si è deciso di gestire all'interno del sito. Inevitabilmente quindi, va usata con attenzione e persimonia, poiché potrebbe impiegare molto tempo a completarsi. Indipendentemente dal tipo di sincronizzazione, è anche possibile decidere di inviare le immagini e le schede tecniche associate agli articoli. Confermando infatti la sincronizzazione, viene posta la domanda se sincronizzare anche le immagini. Posso decidere di esportare tutte le immagini, oppure da una certa data in poi. In questo caso, verranno importate le sole risorse, immagini e schede tecniche, che risulteranno variate in momenti successivi alla data indicata. Premendo No, alla richiesta di importazione delle immagini, verrà effettuata solo la sincronizzazione dei dati. Grazie. 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 Grazie.